Continuiamo a parlare di progetti per quanto riguarda il mondo delle cripto volute e oggi parliamo di Monkable un progetto che secondo me ha un grande potenziale dal punto di vista di giochi blockchain in particolare su blockchain Solana che più volte ho detto che è una delle blockchain che secondo me ha più futuro nel mondo dei giochi blockchain proprio dato dalla sua scalabilità e in generale le sue performance come blockchain rispetto a una potenziale Ethereum parleremo di questo progetto che sta nascendo adesso, l'Aido è nel 30 di questo mese, novembre e secondo me potrebbe essere una buona opportunità, ma in generale come ogni volta andremo a valutarla in base a diversi aspetti per chi non mi conoscesse mi chiamo Samuel e mi occupo principalmente di crypto investing o in generale investimenti all'interno delle cripto volute all'interno di questo canale ti porto generalmente opportunità nel mondo dei cripto progetti in generale anche contenuti riguardanti le cripto volute o contenuti riguardanti gli investimenti se sei interessato a questi contenuti vado a iscriverti al canale per non perderti altri video come questo inoltre ti chiedo di mettere mi piace ai video se ti interessa e molto da supportarmi qua su YouTube tutto ciò che dico all'interno di questo video ha pur lo scopo divulgativo e non finanziario e ho un gruppo Telegram che ti lascio qua sotto in descrizione che sostanzialmente parliamo di progetti che non sempre parlo qua su YouTube di tutti i progetti perché non riesco chiaramente a starci dietro a tutti i progetti che scopro durante i miei studi quindi quel canale lì è una seconda casa di questa community se ti interessa appunto ripetercelo qua sotto in descrizione detto ciò cominciamo subito con il video di oggi bene ragazzi allora andiamo a parlare del progetto di oggi che è Monkey Ball Monkey Ball è un progetto per quanto riguarda un gioco blockchain in particolare basato sul calcio appunto soccer game in cui appunto ci sono queste scimmie che lottano tra di loro per appunto fare gol questo è quello che ci si aspetta sarà probabilmente un'applicazione che potremo scaricare in futuro la roadmap sul Play Store e penso che sia un progetto abbastanza interessante proprio per il fatto che uno io sono un believer per quanto riguarda i giochi blockchain e secondo me il prossimo anno sarà veramente interessante sotto il punto di vista del gaming cioè secondo me molte più persone l'anno prossimo cominciano ad utilizzare questi giochi e soprattutto quelli basati su blockchain e inoltre sono anche fan dell'ecosistema del gaming di Solana perché Solana è una blockchain molto veloce che permette ai giochi di dare il meglio e sostanzialmente poi c'è anche la questione che su Solana ci sono molti più fondi e vengono stanziati molti più appunto capitali per lo sviluppo di blockchain e questo incentiva molti giochi come anche quello di Monkey Ball la caratteristica di Monkey Ball è sicuramente il fatto che combina gli NFT con il gaming perché questo qua è un gioco play to earn come la maggior parte di quelli che vediamo sui giochi blockchain ma sostanzialmente mette anche insieme quelli che sono in realtà degli NFT nel senso che poi i giocatori a tutti gli effetti queste scimmie che vediamo qua a destra saranno tutti gli effetti degli NFT che verranno venduti anche per uno scopo tra virgolette di arte sappiamo benissimo come il collezionismo, ne avevo parlato con Silvio sul canale il collezionismo degli NFT abbia un mercato molto ampio e sicuramente molto di più di quello che è attualmente i giochi blockchain e non è impensabile pensare che utilizzare questi NFT potrebbe dare in generale in futuro anche delle chance di venderle per collezionismo ma andiamo con ordine e andiamo a vedere il sito che mi aiuterà a spiegare meglio questo progetto per quanto riguarda appunto il gioco è un create, play, compete and earn cioè appunto creare, giocare, competere e guadagnare perché appunto è un play to earn vediamo che appunto è un play to earn si basa sull'NFT, sulla blockchain di Solana e in generale sarà un multiplayer game in generale è un gioco abbastanza ben fatto nel senso che a livello di grafiche come vediamo sono fatti veramente bene e appunto il team che ci sta dietro appunto ha lavorato veramente bene per questo tipo di progetto siccome è un progetto di grande qualità vediamo poi le diverse modalità che ci saranno all'interno del gioco poi c'è la community Discord quella che vi consiglio in particolare per questo gioco perché in generale per le collezioni e soprattutto per questi tipi di giochi Discord offre diciamo una connessione con il team diciamo con altre persone all'interno della community molto secondo me più interessante rispetto magari a un gruppo Telegram oppure anche al Twitter perché appunto è più completo secondo me però adolto questo chiaramente tutti gli altri canali vanno benissimo la roadmap la roadmap ed è arriviamo al punto focale del progetto è che deve ancora nascere perché deve ancora uscire sul mercato proprio perché l'Aido è questo mese e in realtà è questo mese il 30 di questo mese cioè il 30 di novembre ci sarà appunto l'Aido che sarà su Star Launch e dopo andremo a vedere bene come si partecipa anche se ormai è un pochino tardi e per questo mi scuso proprio per il fatto che l'ho scoperto appunto di recente e appunto non sono riuscito a fare il video in tempo per quanto riguarda invece gli NFT verranno droppati a dicembre e anche questa è una cosa da stare molto attenti perché come andremo a vedere il funzionamento degli NFT è molto importante per la piattaforma e lo vediamo subito adesso in realtà perché come vediamo MBS sarà il token appunto della piattaforma e avere degli NBS vuol dire insomma sarà chiaramente la moneta che si utilizzerà all'interno di questa piattaforma ma non solo perché se andiamo a leggere un attimino quello che dice dalle descrizioni gli NFT saranno diciamo il core di questo gioco cioè avere gli NFT di giocatori in questo caso di di scimmie ci permetterà non solo di appunto di avere dei vantaggi all'interno del gioco ma anche di avere un vantaggio a livello di airdrop perché come vediamo holding an original monkey give you a special perk such as airdrop of game token cioè avere le originali scimmie ci permette quindi gli NFT ci permette di avere degli airdrop dei token del gioco avere appunto pre-game pre-game training camp quindi diciamo avere delle feature alternative avanzate nel gioco early breeding season e ne sono altre patch avanzate che ci sono appunto all'interno del gioco ma l'airdrop dei token è veramente interessante perché più NFT avremo più probabilità abbiamo di avere dei token gratis NFT drop is planned per dicembre 2021 e questo è quello che abbiamo detto poco tempo fa quindi questa cosa deve ancora accadere il team in questo caso è anonimo nel senso che comunque non possiamo andare a vedere in particolare ogni singola parte perché vediamo le scimmie e dopo vi voglio far vedere anche magari alcune grafiche dei NFT che usciranno perché non sono esattamente queste ma sono veramente interessanti dopo però qua ci sono scritti tutti i ruoli cosa fanno io mi sono andato un attimo un'occhiata veloce vi lascio a voi diciamo andare a studiare meglio poi il progetto il white paper che è sicuramente il posto in cui troviamo tutte le informazioni riguardante il gioco racchiude appunto tutte le cose che ci interessano vedo già però questo progetto ha tirato un po' la mia attenzione per quanto riguarda diciamo le partecipazioni perché vediamo che ci sono un sacco di sponsor che nell'ultimo periodo hanno deciso di partecipare e inoltre una delle cose che mi piace di più appunto vediamo un altro una delle altre cose che mi piace di più di questo progetto è appunto la community e in generale vedere come si muove il team che non sembra cioè dal mio punto di vista da quello che sto vedendo è una community molto piccola ma che lavora diciamo lavora sodo ecco e non mi sembra tra virgolette molto associabile a uno schema diciamo uno schema ponzo comunque una moneta che magari è là fuori solo per cercare di attirare più persone possibile e poi dopo non portare nessun tipo di risultato questo tipo di community secondo me è molto importante in realtà allo sviluppo di questo gioco andiamo a vedere un attimo questo post su Medium che ci dice come partecipare a questa IDO l'IDO appunto aggiungo un'altra cosa che vedremo qua avanti avere degli MBS ci permette di avere dei vantaggi per ottenere poi gli NFT infatti si vede subito qua holding MBS grant premier access to the much anticipated NFT drop no MBS e no monkeys niente token niente NFT quindi bisogna avere mettersi da parte diciamo questi MBS nel tentativo appunto di cercare di portarsi a casa anche degli NFT in futuro per quanto riguarda invece il lancio verrà fatto attraverso Star Launch che è appunto una piattaforma di launching e qua sotto spiega meglio come appunto si partecipa qua vi lascio comunque l'articolo in descrizione se volete approfondire meglio qua ci sono alcune indicazioni su per quanto riguarda circolati supply chiaramente non possiamo andare a vedere dati per quanto riguarda il token per quanto riguarda appunto altri market cap eccetera eccetera perché appunto deve ancora uscire quindi probabilmente farà un update di questo progetto più avanti se andiamo su Telegram un pochino più in basso vediamo gli NFT che stanno provando a mettere su e sono questi qua sono veramente interessanti li trovo veramente molto carini soprattutto se poi potranno essere utilizzati sulla nel gioco e secondo me sono anche carini da un punto di vista proprio prettamente di collezione cioè vedendo quelle che girano attualmente secondo me a livello di di grafiche sono carini per essere carini sono carini ma dopo chiaramente non è questo che determina l'andamento di successo appunto di una collezione ma piuttosto le persone che ci sono dietro il team la serietà appunto del team in generale e varie altre e la community come si crea in generale quindi la bellezza di alcune grafiche non è tutto però siccome è buono perché alla fine permette di avere qualcosa diciamo di qualità ecco anche da un punto di vista grafico per questo video è tutto fammi sapere nei commenti cosa ne pensi di questo progetto e lo trovo interessante e se parteciperai alla Aido oppure no o se farai in tempo chiaramente spero che appunto vi sia piaciuto questo video e metti mi piace al video se l'hai trovato interessante iscriviti al canale per non perderti altri video come questo e noi ci vediamo al prossimo video ciao a tutti ciao a tutti